Nuovo blitz delle forze dell'ordine alla Tendopoli di San Ferdinando. 686 le persone identificate tra gli attuali ospiti, 208 le strutture abitative controllate tra baracche e tende che insistono sul sito, 59 le perquisizioni effettuate all'interno di esse. 159 invece le perquisizioni eseguite con il supporto delle unità cinofile, nonché quattro quelle personali. Solo sono alcuni numeri del bilancio dell'ultima attività interforze eseguita all'interno della Tendopoli e che ha visto coinvolte oltre 200 unità, tra personale della Polizia di Stato, militari dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e del Corpo Forestale dello Stato, agenti della Polizia Provinciale e coadiuvati da personale dell'Ispettorato del Lavoro. Dati snocciorati nel corso di una conferenza stampa preseduta dal prefetto Michele Di Bari che ha coordinato le operazioni e alla quale hanno preso parte tutti i vertici provinciali delle forze dell'ordine e il direttore della Direzione Territoriale del Lavoro Giuseppe Patania. Controlli è stato spiegato e seguiti nell'ambito delle attività di prevenzione e repressione dei reati in particolare legati al fenomeno dell'immigrazione clandestina, alla luce della registrata presenza di un maggior numero di extracomunitari nella Piana di Gioia Tauro, giunti da varie parti d'Italia in concomitanza con l'inizio della raccolta grumicola e insediatisi all'interno della Tendopoli e nelle baracche abusive sorte nei dintorni nel corso degli ultimi anni. Un'eccessiva presenza secondo le stime dell'ufficio territoriale del governo c'è da accertare innanzitutto al fine di scongiurare eventuali problemi anche di ordine e sicurezza pubblica quanti effettivamente tra gli ospiti siano gli stagionari richiesti in questo periodo per la raccolta grumicola nei campi pianigiani. Certamente è una sacca di illegalità che noi dobbiamo affrontare da ogni lato e con le amministrazioni locali faremo in modo che anche determinate situazioni come per esempio l'insorgenza di baracca all'interno della Tendopoli devono quanto prima essere abbattute, divelte anche in considerazione della circostanza che noi stiamo realizzando attraverso un protocollo la nuova Tendopoli dove saranno trasferiti gli attuali, chi è in possesso dei requisiti di legge, saranno trasferiti gli extracomunitari dalla vecchia alla nuova Tendopoli. Questo in che tempi eccellenze? I tempi ho auspico che devono essere, possano essere brevi però certamente tutta l'intera situazione ha ricadute sotto il profilo dell'ordine pubblico. C'è un altro fronte, quello legato ai moduli abitativi del centro di accoglienza di Rosarno occupato da famiglie disagiate del posto? È una situazione che è all'attenzione delle forze di polizia, all'attenzione nostra e credo che anche su quel fronte tutto dovrà svolgersi con un'azione di legalità.